www.aritopolli.it è un piccolo focus sulla concessione di linee di credito alle imprese, micro, piccole, grandi, medie imprese, da parte degli istituti di credito. Quindi la concessione dei prestiti e delle linee di credito alle imprese. Cambiano i criteri di concessione da parte delle banche di questi criteri. Sono sempre stati, ma si focalizzano secondo le nuove guida EBA, GL Loin, che vi allego qui dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, e leggo la guida poi in fondo a questo video. Quindi la garanzia sui prezzi di concessi, ad esempio, diventa di secondaria importanza. Invece si rafforza l'attenzione su tutti gli elementi SG, Environmental, Social and Governance. Di fatto aumentano le informazioni che l'impresa di qualsiasi dimensione, micro, piccole, grandi, medie, devono fornire l'istituto di credito. Quindi si focalizzano anche sul monitoraggio costante, forward looking, cosiddetto, delle dinamiche aziendali e richiede a tutti gli imprenditori l'elaborazione di che cosa? Di bilanci infrattuali, budget e business plan. Abbiamo sempre fatto queste cose, dobbiamo solo sistematizzarle nelle aziende e fornire un costante dialogo con il sito bancario per il monitoraggio già delle linee di credito concesse, ma anche per richiedere nuove linee di credito per i nuovi progetti imprenditoriali. Ricordo qui le linee guida e quindi focalizzarci per il 2024 su queste tematiche SG, molto importanti per le imprese. Ecco qua l'articolo e alla prossima è una vostra riflessione su questa tematica. Alla prossima!